Ciao a tutti amici e amici di Indio Channel, benvenuti al primo episodio dedicato ad ARA History Untold, un episodio, proviamolo, in cui andiamo a vedere per la prima volta insieme questo 4X, e io mi vedete la sorriso e sono esaltatissimo, un 4X che vuole sfidare, diciamocelo apertamente, il franchise di Sid Meier Civilization e di Humankind. Ce la farà? Sì, c'è l'Italia, non lo so, volevo dire, però c'è l'Italia, c'è l'italiano, e c'è un leader che davvero non mi aspettavo. Ma poi capendo una particolare dinamica di ARA History Untold, di cui vi parlerò appunto in questo video, ho capito perché hanno messo questo leader, ho capito perché hanno messo lui. Giocatore singolo, Daie, Namo, nuova partita. Voglio fare un video in cui faccio una review di tutti i personaggi che si possono giocare e di tutte le civiltà. Io potevo scelterne tanto, ovviamente ho scelto l'Italia, con Cesare Beccaria. Ci sono davvero tante civiltà e ogni civiltà non ha soltanto un bonus, ne ha diversi. Infatti c'è una abilità del, possiamo chiamarlo, del leader, e poi delle caratteristiche del leader. Non è detto che per ogni civiltà ci sia un leader solo, infatti ad esempio la Corea credo che ne abbia due, però vedete che Sejong il Grande ha Hangul come bonus e Ryu Gwansung ha Indistruttibile. Cioè sono proprio tutti diversi. E poi ci sono le loro caratteristiche personali. Questo titolo, essendo un 4X, vi farà iniziare nella preistoria e vi farà arrivare nell'età futura, penso. Io non ci ho ancora giocato, ho giocato mezz'ora giusto per fare il tutorial. E in questa partita giocherete sempre e solo una civiltà con un leader, da quello che ho capito. Quindi non ci sono le diverse epoche come Humankind. Però il tipo di vittoria mi ricorda molto Humankind, perché va a una specie di punteggio. Perché è stato scelto Cesare Beccaria? Perché è stato scelto Cesare Beccaria? Che ha scritto tra le tante cose, un bellissimo testo, dei delitti e delle pene, in cui tratta di diritti umani, la tortura come metodo che non funziona. Insomma, ha fatto veramente tanto per la letteratura italiana. Perché i leader di Ara Instrumenthal non sono sempre dei leader politici. Anzi, spesso, sono dei leader quasi culturali. Per darvi un'idea, la Grecia la fanno guidare... Dov'è la Grecia? Adesso se la trovo. Aspetta, stai buono Cesare. La Grecia la fanno guidare a Sappho. Poetessa lirica. L'Australia la fanno guidare a Howard Flory, un genio della medicina. Ed effettivamente ha più senso che una civiltà che ha un bonus alla salute pubblica abbia un medico come leader. Non, che so, il segretario della democrazia cristiana. Cioè, la butto lì così. Poi però, vabbè, andiamo sulla Germania, c'è Otto von Bismarck, Sangue e Ferro. Cioè, ce n'è per tutti i gusti. Ma se si vuole una donna più custom origerata, c'è il De Garda di Wingen. Ok, vi ho fatto vedere troppi leader. Voglio fare un video ad hoc per loro. Adesso però vi faccio vedere un pochino le caratteristiche del cesarone. I tiranni non leggono. Riduce di un 33% il costo di ricerca delle tecnologie di governo. La produzione artigianale di libri aumenta del 100%. Poi l'artigianato è un mondo a parte, in questo gioco ve lo farò vedere. Le filande, le botteghe artigiane, i potenziamenti relativi a filande e botteghe aumentano di 5 la felicità e anche la salute di una città, una volta sbloccati i libri. È collaborativo, si ha più housing nella città, gli alloggi praticamente sono come l'abitazione di Siv. È maestoso, quando non sei in guerra le città ottengono più felicità e prosperità, così, standard. È pacifista, aumenta di meno 10% la forza degli eserciti al di fuori del tuo territorio. Vogliamo fare una guerra di conquista con l'Italia? I nostri eserciti sono meno forti. Se facciamo una guerra difensiva invece sono al 100%. È saggio, aumenta la conoscenza delle città ed è persuasivo, praticamente la durata dell'età dell'oro è più grande. Possiamo addirittura scegliergli il giacchino, lo faremo di un color crema, di un color bignè, selezioniamo e andiamo avanti. Difficoltà, allora, ci sono diverse difficoltà, da scudiero che serve praticamente per imparare a muoversi, fino a imperatore che è la più difficile. Il gioco suggerisce di giocare a Visconte, che è la difficoltà normale, io me la butto su Conte, dai, per essere un pochino più sfidante. Tipo di mappa, la facciamo nuova. Opzione di generazione, continenti, dimensione piccola. Ah, perfetto. Potete vedere anche il Seed, se volete usare la stessa mappa che io. Poi vi lascio qui sotto in descrizione il link ad Instant Gaming, perché il gioco uscirà il 24 di settembre e il gioco sarà già scontato su Instant Gaming, quindi voi potete attivare la campanellina per ricevere l'email quando le chiavi saranno disponibili e poi siate veloci, perché se finiscono dovete poi riattivare la campanellina e Instant Gaming vi comunica quando arrivano le chiavi scontate, quindi io vi lascio il link qua sotto. Inclinazione assiale, ovviamente è un link affiliato, lo dico per trasparenza. Temperatura mite, umidità, media, livello del mare medio. Io direi che qui va tutto bene, creiamo la partita adesso. Vedete il caricamento è abbastanza rapido. Ho fatto 20 minuti, 30 minuti di gioco, giusto proprio per capire che cosa devo fare all'inizio. E ci sono delle meccaniche che mi hanno fatto, mi hanno sorpreso. Io non ho mai seguito ARA, non ho mai visto degli stream, altri colleghi. Adesso vediamo. Milano. Ripresentiamo il tutorial. Partiamo da questa cosa. Fondiamo Milano con Beccaria. E se faccio uno zoom out, vedo una bella catena montuosa, saranno le Alpi a questo punto. E vedo tanta foresta attorno a me. E vedo già delle prime risorse, come delle viti, dell'orzo. E qua c'è un deposito di risorse e un altro. Ma vedete che ci sono anche queste icone, che sembrano brutte. Qualcuno mi ha detto, ma è brutta la mappa con le icone? No, aspetta un attimo. Le icone rappresentano... Tu puoi fare uno zoom e vedi praticamente fino al dettaglio di quello di cui si parla. Questo è un territorio invaso dai lupi. E dovremo scacciarli se vogliamo colonizzare questa zona. Ci sono animali più o meno pericolosi. Ad esempio, qui a nord, verso le montagne, addirittura un orso polare. Mamma mia. Però poi se diamo un'occhiata... Qua ci sono delle volpi. Non so se possiamo recuperare pellicce. Questo non lo so. Qua ha dei puma. Vi faccio vedere il dettaglio perché è carino. Se zoomo su Milano, questa iconcina con il grande capo toro seduto. In realtà è un'unità di scout. E questa è la nostra prima città. Praticamente siamo nel 4000 avanti Cristo. Atto 1. Storia antica. Non mi dice la data in realtà, però possiamo immaginare. E Milano è stata fondata come un piccolo villaggio che ha un distretto solo. Il distretto è qua. È il grande focolare della città. E praticamente che cosa fa? È un distretto. Che può creare dei progetti. E in questo caso il progetto che sta creando è un banchetto. Che aumenta la crescita della città e fornisce cibo. Ok? Questo è il... Questa è il... La visuale. Se io voglio vedere però il centro cittadino... Clicco su Milano. E adesso lo vedo come centro amministrativo. Vedete che ci sono diverse province? In ognuna di queste zone si chiamano. In ognuna di queste zone noi possiamo costruire uno sviluppo. Selezioniamo un progetto. Possiamo fare abitazioni, fattorie, officine. Un esploratore, un lancere. O produrre ricchezza. Ogni miglioramento che costruiamo ha un costo in risorse. Come Age of Empires. E ne vedete qua? Qua abbiamo il cibo, qui abbiamo l'oro, qui abbiamo il legno. Qui abbiamo la pietra. E i materiali che racchiudono un pochino tutto ciò che è pietra oppure materiali di costruzione. Ma non è finita qua perché ci sono un sacco di utensili che possiamo costruire con le tecnologie. La prima cosa che voglio fare, che il tutorial mi suggerisce, è di fare una fattoria. Io purtroppo non ho la tecnologia adeguata e non ho il riso, il grano e compagnia bella. Quindi dovrò fare una fattoria banalmente abbattendo della foresta. Abbattiamo questa foresta e fra sette turni degli abitanti inizieranno a raccogliere il cibo. E il raccolto, se c'è una fattoria su questo territorio, sarà al 100% in più. Ve la leggo. Della produzione di cibo, della regione e viene applicato alla raccolta prodotti. Ok? Quindi, raccolta prodotti, è la produzione per la raccolta, la produzione per la raccolta è un bonus alla produzione che viene applicato solo ai miglioramenti che stanno raccogliendo oggetti, fonti di risorse, non 100% su tutto, quindi sul cibo. In più, a mentre del 3% la crescita della città e fornisce un più 5 raccolti prodotti della regione per ogni miglioramento nella fattoria. Quindi se miglioriamo la fattoria poi migliorerà anche il modo in cui noi raccogliamo il cibo. Non voglio entrare troppo nei dettagli tecnici perché sfuggono anche a me, siamo in fase di tutorial, ma per farvi capire che il posto in cui si costruisce un miglioramento e come si poi capitalizza svolgono un ruolo importantissimo. Torniamo alla mappa. Adesso io ho la selezione dello scout come missione e gli diamo un ordine. Vedete che io non devo zoomare per selezionare il gruppo di scout. Se io tengo la mappa strategica, clicco sul toro seduto e lo mando qua. E adesso lui in un turno fa un movimento di casellina, no? E adesso mi fa vedere anche le sue statistiche, la forza, la velocità, la vista e le azioni che può fare. Può cacciare, può raccogliere i fornimenti, può esplorare automaticamente. Costa un cibo per turno. Va bene. Nascondiamo la lezione. Posso aggiungere un bene di consumo a Milano? No, perché non l'ho ancora creato nessuno. Posso a questo punto... Intanto chiudiamo le notifiche. Ah, ho ottenuto un punto di... Un punto vittoria. Vi faccio vedere. Se clicco adesso sul cesarone, mi fa vedere che lui ha già due punti vittoria. Storia antica. Perché ha fondato una città, perché è il nostro turno. E poi ci fa vedere praticamente che ci sono altre sei nazioni... Anzi no, otto in totale nazioni. Quindi altre sette nazioni che concorrono. Corrono per la vittoria. Poi statistiche, prestigio, queste si vedranno. Prossimo turno. Notifiche urgenti. Adesso abbiamo un'unità inattiva. Interagisci con un punto di interesse. Attiva notifiche urgenti. Apro il pannello della tecnologia. Allora, le notifiche urgenti sono qui. E ci dice... Uè, guarda che il nostro scout è arrivato a destinazione. Vedete che abbiamo trovato una sorta di... Non so se sono nurag... Non so che cosa sono queste. Deposito di risorse. Ho svegliato a cliccare. Clicco col destro in modo che lo scout usi l'azione e raccoglie risorse. E adesso praticamente i nostri scout vanno ad esplorare questa struttura preistorica. E posso ricercare la mia prima tech. Allora, funziona così. Quando si sono ricercate abbastanza tecnologie, si può avanzare di epoca. Entrare nell'età del bronzo. Però, per entrare nell'età del bronzo, devo prendere prima... Conservazione dei cereali, fabbricazione di corde, arboristeria, fermentazione, ceramica, zootecnia e tiro con l'arco. Visto che io qui ho il vino... E però qua ho l'orzo. L'orzo, come potrei conservarlo? Con la conservazione dei cereali posso fare depositi dei cereali. Posso far inventare il pane. Posso fare un granaio e posso sbloccare il riso grezzo. Dai, iniziamo a ricercare la conservazione dei cereali. Come antica Milano. E turno successivo? Allora, il raccolto ci ha dato uno sciroppo e dieci di cibo. Lo sciroppo posso usarlo qui? No, non posso ancora. Vorrei proprio capire dove posso assegnare lo sciroppo come bene di consumo. No, non posso assegnarlo. Ok, probabilmente servirà forse un'erboristeria o un ospedale. Non lo so, qualcosa di questo tipo. Comunque abbiamo recuperato adesso i nostri bonus. Qui ce n'è un altro che vado subito a cercare. E poi cerchiamo di liberare la zona con l'orzo dai lupi. Perché altrimenti se ci espandiamo non riesco ad arrivarci. Vediamo qui cosa abbiamo trovato di interessante. Non ci siamo ancora arrivati, ok. Però è interessante perché la mappa è strana. Tipo qua a me sembrava rivedere delle bacche o dei fiori. Ma non si possono raccolare. Tipo qua ho dei cervi? No. Scusate, erano arbusti. Scusate, scusate, scusate. Next one. Incontrare tribù. Hai scoperto una tribù indipendente nelle vicinanze. A volte le tribù ti contatteranno e le tue risposte potranno influenzare la percezione che hanno di te. Quelle che ti stimano potrebbero unirsi alla tua nazione, mentre quelle che ti distraessano potrebbero attaccarti. Quindi non esistono i barbari, ma esistono altre tribù. Eccole qua. Abbiamo trovato la tribù dei cremonesi! Abbiamo trovato la tribù dei cremonesi, ragazzi. Ci regaleranno un torrone, penso. Posso parlare con loro? Questa cosa è nuova per me. Poco amichevole. Le relazioni possono essere migliorate e mantenute completando gli obiettivi della tribù. E le tribù amichevoli poi possono aggiungersi, ok. Tanto il tutorial ci chiede sempre di completare la fattoria. Ci servono ancora un pochino di turni. Ok, fermi tutti. Nonostante questo fosse territorio di Cremona... Ah no, scusate, no. Il territorio di Cremona ha un deposito di risorse, ma noi qui abbiamo preso un altro deposito che ci dà due oli alimentari, due pellicce e due materiali da scultura. Proprio soltanto materiali. Ok, ma andiamo a caccia il nostro scout a caccia dei lupi. Quanto manca la fattoria? Due turni, due turni. Ah, intanto vedete che la qualità della vita di Milano è molto molto... Cioè, non c'è soltanto la felicità. Beh, la felicità, la salute, la conoscenza, la prosperità e la sicurezza. Insomma, non male, eh? Ok, quasi... Stiamo quasi per completare la fattoria. Vediamo adesso i lupacchiotti, come se la passano. Il duro lavoro paga? Che è? No, la fattoria è arrivata. E sono arrivati anche gli scout, poveri lupi. Gli stanno tirando dietro dei bastoni. Allora, mentre i nostri scout scacciano i lupi... Ah, guardate Milano, che adesso c'è la fattoria. Guarda i milanesi come lavorano. Guarda come fatturano con i cereali. Adesso c'è anche un Umarell da qualche parte che osserva così, che tutto vada bene. Stanno fatturando più due di cibo, perché era addoppiato, era un più uno, adesso è un più due. E se io adesso torno alla mappa un attimino, scusate, e clicco sulla fattoria... Oh, vedete? Adesso praticamente mi fa la panoramica e mi dice che facciamo 2,6 cibo. Se riuscissi a mettere un aratro o un aratro pesante in questa struttura, aumenterebbe il 50% l'output. Però gli aratri vanno costruiti e va ricercata la tecnologia. A questo punto, io selezionerei un nuovo progetto che è l'officina, lo suggerisce anche il gioco, e la metterei magari dall'altra parte della città, non dove ci sono i campi, dove c'è la foresta, e iniziamo a fare l'officina in cui poi cercheremo di lavorare agli aratti. Abbiamo un altro deposito, bellissimo! E qua cosa c'è? Deposito di attrezzature? E la badò, raga! Cioè, è 5.000 avanti Cristo, c'è già un tempio greco distrutto, saranno stati gli alieni, ragazzi. I'm not saying it's aliens, but... Conservazione dei cereali. Ok, ci siamo. Vediamo se abbiamo opportune, vediamo del riso grezzo sulla mappa. Eh, no. Ma abbiamo sfiga, non c'è riso, va bene. La ceramica mi dà i vasi e il negozio di ceramiche. Non è che magari la ceramica poi mi aiuta a conservare? Può essere un'idea. La fermentazione per fare il vino mi piacerebbe troppo, però poi devo andare in questo territorio che ha l'uva selvatica. No, dai, vado di ceramica. Cereali e ceramica, secondo me, sono un buon inizio. Il nostro amico qui purtroppo le ha prese, lo riporto a Milano a curarsi. Cosa ha trovato? Pelliccia e 5 cibo. Ok, va bene. Completa l'officina e la nostra missione. Va bene, dai, abbiamo tutto. Turno successivo. Andiamo adesso al turno 10. Ah, vi dico una cosa. Se questo video raggiunge 2000 mi piace faccio una serie con questa partita. Mettete mi piace, perché sennò devo fare 2000 account Google io e mettermi like da solo, perché la voglio fare. Mettete mi piace quando vedo 2000 parto. Dai, unità inattiva. Curati patatone. Curati, curati, curati. Turno successivo. Abbiamo il turno 11. Intanto vedete che Milano qui fa l'oro, qui fa il cibo. Adesso il cibo è addirittura più 3. Non so se è migliorata l'efficienza della fattoria. Sta cosa non l'ha capito. Ah no, è un round up. È un arrotondamento per eccesso. Va bene. Va bene. Fammi vedere se posso aggiungere tra le varie cosine che ho trovato. Beni di consumo. No. Qua prima di avere un banchetto campa cavallo che l'erba cresce, giusto? Va bene, lo aspettiamo. Unità inattiva. Ti sei curato? Bravo. Allora, se ti sei curato, voli in questa casella, andiamo a recuperare le attrezzature. Qua c'è se è pieno di lupi. Cos'è questa roba? Belle, ci sono le tipiche... I caribù selvatici, i bovini. Ah, sono capre? Capre. Caribù selvatici. Sono capre. L'esercito scout ha recuperato 10 punti di salute. Bene, avanti. Avanti, avanti, avanti tutta. E avanti ancora. Ok. La tua città è cresciuta a livello 2. Quando la popolazione raggiunge determinate soli, la città sale di livello. E più alto livello, maggiori saranno le necessità, ma anche le opportunità. Se adesso vado qui dentro, quello che posso fare è rivendica un territorio. E noi che cosa rivendichiamo? Beh, chiaramente rivendichiamo quello che abbiamo liberato con l'orzo. Così possiamo poi lavorare i cereali. Il gioco già di suo dà dei nomi alle regioni. Leggiamoli insieme. A est di Milano c'è Teramo. A sud c'è l'Aquila. A sud-ovest c'è la Lombardia. Poi c'è il Legnano. Ferrara a nord-ovest. Savona a nord. E Sassari, praticamente in direzione Alpi. Io, che non ho studiato tanto, dico che secondo me è giusto. Io direi di rivendicare l'Aquila. Confermiamo. L'area è rivendicata e adesso possiamo lavorare. Poi, appena possibile, torniamo sulla mappa, appena abbiamo l'officina pronta, andiamo a lavorare questo territorio. E vedete che poi i nostri abitanti, se zoomiamo, iniziano a vivere di vita propria. E iniziano a camminare e si formano le strade. Vedete che già si è formata una strada che va verso la nuova regione. così come ci sono strade che vanno verso l'esterno. Qui l'orso polare eviterei di invitarlo a casa. Se è la prima cività a scoprire Frosinone, ha una tribù. Frosinone è una tribù di lanceri, ok, anche loro Eh, no, ma non posso aprire le relazioni. Forse è perché devo imparare, non so, a scrivere, a fare di conto, a non parlare a Rutty. Visualizza l'officina. Oh, questo volevo farvi vedere. Adesso che abbiamo l'officina, possiamo chiedere che cosa fa... Un attimo, nasconde la lezione. Che cosa crea l'officina? Selezioniamo un progetto. No, scusate, scusate, scusate. Selezioniamo l'officina, ho sbagliato. Creazione, cesti oppure utensi di pietra. Io adesso dico, per favore, costruisci utensi di pietra. Boh, fanne due e poi fai due cesti. Cosa dite? Vi piace una cosa? Cosa mi serve, allora, per mantenere l'officina materiali, legno e oro, però sono in surplus, quindi posso farlo. E per gli utensili litici, produzione per turno 0,1. Aiuto. 16 turni per fare il nostro primo, la prima zappa di pietra. Ok. Ragazzi, siamo il top della tecnologia. Milano è sempre Milano. Va bene. Tu vai a recuperare questi depositi, allora? abbiamo raccolto un lingotto. Ok. Next one. Ah, nuovo progetto. E allora, se faccio la fattoria qua sopra, più uno, più uno. E qua c'è l'orzo. Costruisci fattoria per aumentare la velocità di raccolta di cereali. No, guardate che hanno, proprio piantano tutti i cereali adesso. E adesso iniziano anche a colonizzare. Ed è stradina e casette. Ok, bene. Nuovo deposito. E abbiamo ricercato la ceramica. Possiamo costruire i vasi nell'officina e fare un negozio di ceramica. D'accordo. Vediamo se c'è qualcosa che mi permette di parlare. No, eh? Le corde, ci servono per fare le corde, per fare le reti da pesca. Non abbiamo il mare, purtroppo. Ah, possiamo costruire anche Stonehenge come meraviglia con le corde. Ah, perché c'è da tirare sui massi, capito? Andiamo di zootecnia. Mi pare di capire che sblocca i cammelli e i cavalli. Sblocchiamo la zootecnia. E tra l'altro la zootecnia ci dà anche prestigio, sì, sì. Chiudere. Avanti tutta. Ah, qua abbiamo recuperato il materiale. Continuiamo a scendere ad esplorare a questo punto e vediamo. Comunque è una mappa molto molto di terra, di montagna. Io non so neanche se gli eserciti possono valicare queste montagne. Se è così siamo molto ben difesi. Qui c'è del mare. Qui potremmo fare una città costiera. Allora, facciamo che prendiamo questa riserva e poi andiamo a Go West, andiamo a Occidente e cerchiamo di vedere se abbiamo modo di fare un colono. cosa dite? No? Posso usare utensili per pompare l'officina e niente, basta. Quindi andiamo a fare gli utensili. Next one. No, adesso abbiamo trovato il mare, va bene. Cos'è questo deposito? 50 ricchezze, pigliati queste e poi risali, dai. Ragazzi, piccola pausa per lo sponsor di oggi e poi andiamo avanti e fondiamo la seconda città. Durante l'età del bronzo navigare in sicurezza era un lusso. Manca giorno d'oggi la stessa cosa quando state su internet e se volete stare tranquilli una VPN è d'obbligo. Una VPN svolge tantissimi ruoli, non si lamenta mai. Vi protegge dalle minacce del web, assicurandovi che la vostra navigazione resta incognita e proteggendovi da malware e disavventure simili. Con il dark web monitor verrai avvisato se la tua email associata all'account NordVPN verrà trovata nel dark web. Questo servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ti avvisa immediatamente in caso di violazione delle tue credenziali, quindi ti protegge prima che i criminali possano approfittarne. Inoltre, vi permette di usare un server offuscato, quindi nessuno saprà mai che state usando una VPN. Qualora partiste per un'avventura mercantile nel Katai, censura cinese, voi potete continuare a navigare come se fosse nel vostro paese preferito. Cliccate il link che vi lascio al primo commento di questo video. È un modo per supportare il mio lavoro ma è anche un modo per navigare consapevolmente in sicurezza con NordVPN. Bene, 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 bene. Allora, prossimo turno. Avanzando attraverso la storia si verificheranno degli eventi che richiederanno la tua attenzione e il tuo giudizio. Le tue decisioni potranno avere vari esiti e a volte solo il tempo saprà dire sei scelto per il meglio. Ok, andiamo a vedere la prima decisione che non è questa perché questo è lo scout che mi dice vediamo se c'è una decisione no, non c'è una decisione per adesso. Devo aspettare forse, ok. 11 turni per gli attrezzi di pietra un turno per le fattorie di cereali ah no, c'è invece il forte della foresta un ragazzo di non più di 16 anni entra nel tuo accampamento saltellando per l'ecitazione spiega che lui e i suoi amici si stavano arrampicando sugli alberi mentre erano seduti in Cina a una quercia gigante ha notato una collina innaturalmente rotonda con del fumo forse provenire da un falò che si alzava in lontananza ok, richiede supporto per indagare in sicurezza la leggenda narra che Brian Boru il sovrano dell'impero d'Irlanda del XI secolo rimedicò il suo trono nel forte della foresta di Belboru secoli dopo il forte e il suo bottino furono scoperti oggi le rovine rimangono un luogo dove i bambini e i amici rivivono la leggenda posso mandare un esploratore guadagno gioielli e vasi ma abbasso la felicità nella capitale per 10 turni posso armare il ragazzo e i suoi amici abbasso la sicurezza ma guadagno gioielli e vasi ehm dai mandiamo un esploratore quindi adesso abbiamo vasi e cose abbiamo dei gioielli posso attivare un gioiello sul falò aumenta di 10 la prosperità della città e di 15 per quanto? per 10 turni mettiamo i gioielli subito qua nella fattoria posso aumentare qualcosa nope e qua posso fare qualcosa nope ok quindi abbiamo appagato Milano con i gioielli adesso la felicità è più alta e con la felicità 60 la produzione della città aumenta del 10% quindi insomma non è che sia soltanto così per fare sciccherie la settimana della moda no i gioielli di Milano producono più fattoraggio insomma vai vai a vai a lamentarti poi ok ricerca completata con la zootecnia sblocchiamo l'aratro come progetto e materiale di consumo le carni stagionate la macelleria il cammello il cavallo l'elefante il bisonte l'avorio i suini la pecola i bovini che è una vecchia fattoria questa intanto qua abbiamo allora capra capra cervo della coda bianca è figata ma c'è tutti gli animali diversi è una figata questa ok 2000 mi piace dai che sennò devo fare gli account google 2000 mi piace dai che ce la facciamo dai che ce la facciamo zootecnia attiva con l'arco che non si sa mai selezioniamo il progetto coloni tu vai a prendere questa cosuccia turno successivo intanto volevo vedere quanti cereali facciamo pozione 0 si insomma non è che stiamo facendo antiss non è perché stiamo ancora costruendo questa fattoria no perché stiamo ancora raccogliendo cereale ok non è pieno vediamo fra due turni quando abbiamo raccolto il cereale che cosa succede mi arriva un più uno devo imparare un sacco di cose cosa abbiamo trovato qua un'altra riserva non abbiamo ancora trovato degli avversari un palazzo per sempre una nazione prestigiosa esige una residenza maestosa oltre ad attestare il tuo successo un tale palazzo renderebbe un'ora in passato i tuoi consiglieri suggeriscono caldamente di costruire un palazzo su un sito dimostratosi di buon auspicio per il tuo popolo nel corso dei secoli e gli oracoli ti esorteranno già dobbiamo costruire un palazzo come lo costruisco il palazzo arte murale dobbiamo prendere una tecnologia dell'età del bronzo deposito raccolto hai ricevuto un deposito riprovvista raccolto cibo e sciroppo bene sciroppo fa benissimo per quando i coloni hanno la tosse vai a capire cioè sta fattoria mi fa più tre però fa cibo e questo invece fa cereale non è che magari io adesso sto cereale ce l'ho da qualche parte e ci devo fare il pane prima di poterlo mangiare forse 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 e intanto qua abbiamo scoperto i cavalli che culo qui abbiamo i cavalli selvatici quindi poi possiamo domesticarli per fare una potentissima cavalleria milanese ok unità inattive i lupi li lasciamo stare che sono bravi e andiamo a prendere questo deposito quanto manca il colono tre turni ok cremona ci dà ci chiede un'offerta aumenta la produzione di costruzione della tua capitale ma meno uno relazioni accetta senza leggere lo scritto meno conoscenza in tutte le città ma più relazione con cremona accetta e fai circolare le informazioni meno produzione per dieci turni ma più quindici pellicce e più relazioni con cremona abbassiamo un po' la conoscenza aumentiamo le relazioni con cremona ragazzi dai 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 intanto abbiamo raccolto una ruota io sempre a dire e cosa ci faccio con la ruota che cosa ci faccio con la ruota ci vado ci vado in vacanza ah tra l'altro l'officina adesso può fare anche gli aratri no giù 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 utensilino mi fai un aratro classifica allora siamo ultimi siamo ultimi ragazzi si vede che è la mia prima partita ok intanto abbiamo sbloccato l'arco abbiamo sbloccato l'arco che ci dà la possibilità intanto prestigio gli no scusate no 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 fammela vedere da te un attimino storia antica possiamo fare il tiro con l'arco e la formazione acuneo visto prima si il campo di caccia ok prossima tecnologia non posso ancora avanzare andiamo sulla andiamo sulla fermentazione che un vinello magari lo produciamo poi ok abbiamo il colono quindi Milano adesso può selezionare un progetto la macelleria ci dà le carri no il granaio aumenta la raccolta dei prodotti nelle fattorie all'interno sul mare però magari non non nei territori infestatissimi qua ci sono i molluschi il riso e le capre io quasi quasi andrei in questo territorio che ha le capre a fondare capri ma lo vediamo nei prossimi episodi se mettete 2000 like Dandio per ora è tutto io vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento alla prossima un saluto e a presto grazie a tutti